Unire medicina e tecnologia per facilitare le prestazioni sanitarie. È il tema discusso nel convegno Telemedicina e Innovazione in Medicina nella Sanità Regionale, tenuto a Palazzo Lascaris, che ha coinvolto medici, professionisti del mondo tecnologico ed esponenti della politica regionale. Un incontro per approfondire un argomento di grande attualità, ma su cui c'è ancora molto da lavorare. Curare a distanza i pazienti e ottimizzare i tempi della prestazione è possibile, le premesse esistono, ma resta ancora molto da fare. Lo scopo di questo convegno è quello di fare un overview di quello che sono le possibili applicazioni in campo specialistico, in campo di sanità territoriale, in campo di innovazione tecnologica e di un confronto anche che è necessario con chi fa magari queste cose organizzativamente in modo diverso come altre regioni. I progetti sperimentali di telemedicina già esistono anche in Piemonte, che quindi non è assolutamente indietro da questo punto di vista. Bisogna capire quali sono le necessità, le risorse a disposizione e anche organizzativamente come strutturare un'erogazione più capillare di questo tipo di applicazioni. Best practice, analisi degli strumenti digitali con un occhio alla protezione dei dati e della privacy, ma anche un modo per confrontarsi con altre realtà nazionali e per guardare al futuro insieme. La persona con la malattia, nel nostro caso la sclerosi multipla, diventa una persona che è al centro dell'informazione, addirittura forse al centro della ricerca e questo secondo me è una cosa estremamente importante. Noi in genere in Italia vediamo il malato ogni sei mesi, tre mesi, ma tutto quello che succede tra tre e sei mesi non lo sappiamo e quindi queste metodologie ci permetteranno di avere grandi informazioni su questo. Le istituzioni sono banca di grandi informazioni, di banche dati, allora l'accesso a queste banche dati istituzionali potrebbe essere qualcosa che veramente cambia le informazioni che noi riusciamo ad avere sui pazienti.